Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Alfratta, siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot, siamo nei panni di Junior che si è fuso con Nail, uno dei suoi fratelli e in questo momento dobbiamo dirigerci verso gli altri, quindi dobbiamo assolutamente salvarli Allora mi raccolgo solo un paio di questi cristalli qua che quando posso intanto farmo qualcosina e poi ci dirigiamo direttamente in là Ah ti è caduta una... vabbè, vabbè, non so che cosa voleva dire Allora da che parte dobbiamo andare? Noi laggiù, quindi vai Io non sto farmando, non sto facendo missioni secondari, niente, mi sto concentrando sulla storia perché tanto una volta che lo finisco Lo ricomincio da capo e me lo gioco con calma Mi faccio tutto quello che devo fare, per adesso voglio portarmi, portare avanti con la serie In modo da sbloccare altre saghe Comunque, il gioco mi sta piacendo ragazzi perché comunque rivivi la storia, rivivi tutta la storia dello Z Ma non mi piace tanto il combattimento, il combattimento è bello perché è diverso dagli altri picchiaduro Essendo un gioco di ruolo, però sono sempre uguali i combattimenti, cioè io pensavo che comunque cambiasse da personaggio a personaggio però vabbè Intanto Freezer si è trasformato, la sua prima trasformazione E sarà tosta tirarlo giù Via la coda Sì, infatti lui l'aveva incornato Non mi ricordo come ha fatto Forse con Fagiolo di bazar, non mi ricordo Dai muoviti Vegeta, cazzo Ah è vero, è Dende che può curare È vero E ora si deve riporare Sì, non mi ricordo Ma che lo scusate Se stai Sì, mi ricordo Non mi ricordo Cosa cosa lo scusate Non si stai Sì, non è vero. ok noi siamo nei panni di junior ok Va che figata Adoro Junior Dove scappa? Bello Devo riprenderci la mano Perché è un paio di giorni Che non ci sto giocando Quindi Ah merda Vediamo un po' Oh no No aspetta Io mi sbaglio sempre Oh che figata Recupera l'energia Vai 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 Merda Non vedo un cazzo C'è un bel po' di bar Da tirare giù eh Eh vabbè però Se non posso indirizzare Che cazzata è? Merda Bella così Grande Junior Mamma mia Che culo Bella 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 E piantala Cazzo Mamma mia Merda E piantala Di starmi addosso Oh oh Dai Ole Cacchio Al pelo No Dai Dai Cazzo L'avevamo quasi preso Ma lui si ricarica Merda Dai 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 Bella 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 Allora Allora Merda Che sfiga Che sfiga No 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 Basta Dai che non si ricarica andato Grande Che sfiga Che sfiga Fin coffee OLE Femm... No Ah Ah S-そんな Miせてやろう Quo'えに思うがいい Quo'な変身まで miせるのは Chikuro-san Bok mo' tattakimasu C' so Mate Kisama ga i'te mo' muda da Soriori Kona ore o'han殺し in shiro Ima sugu da Eh Che figata Si fa abbastanza schifo in effetti Eh Oh almeno qua Ci ha ricaricato la vita Grande Bravo Koan Dai che lo hariamo Cazzo Minca togli un botto Aspetta Aspetta Vai Masenko Vieni qua Cazzo Mi ho stunnato No aspetta Vai 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 Così Concentriamo la nostra Aura Nooo E che palle però Minca ci sta arando Eh vaffanculo Sta scazzo di mossa Ci toglie un botto Ci toglie Che panna troia Ma dai 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 Mamma mia Ah vaffanculo Shit Cazzo Combo L1 Più R1 Quando indicatore di supporto Dei tuoi alleati È pieno Ok Queste tacche vanno sempre a segno E infliggono un'enorme quantità di danno Ah e questo non me l'hai spiegato però L1 Più R1 Vai Vanno sempre a segno Oh bellissimo Bellissimo Mamma mia Mamma mia i danni Merda Stato Egoista Bravo Gohan Bellissimo Davvero figo Davvero figo Davao I Sì Sì, che cosa? Non ci sono dei miei amici? Tu anche i miei amici. Non ci sono dei miei amici. Non ci sono dei miei amici. Ma... Ma... Mi sono andato a te, che ci sono. Sì, non è vero, ho scusato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti